Allora, le faccio ufficialmente la richiesta degli umani di questa spiaggia. Rendete questa spiaggia fruibile agli umani. Pulitela con la rospa e portate la sabbia ai cestini. Questa è una roba civile. E aggiunge dei servizi. Aspetta, gli scarichi delle docce che non funzionano. Le erbacce. Se questa è un adegro urbano, non lo so io. Va pulita. Quindi, rendete accessibili agli umani. Poi ci preoccupiamo anche dei cani. Prima preoccupiamoci dei domani. E questa è una richiesta che ho ufficialmente fatto. E' una questione di spiaggia. E' una questione di spiaggia. Allora, come vanno a prendere in considerazione la spiaggia? Dopo la banchiera, l'ha aggiunta un'altra. Quindi chi decide? L'abbero? Allora, voglio riprendere il suo. Siete quanti volte a fare. Risponderà il signore. Siete qui. Siete qui. Siete qui. Siete qui. Siete qui. Siete qui. Siete qui.